buongiorno amici sono in solitudine e non è molto tranquilla la situazione perché se si scivola quando ci sono più nemmeno i corvi allora questo posto si chiama la macchia dell'orso è già sufficiente no ecco qui come vedete guardate la di sotto i dirupi io sono fermo con una mano ma quanto quando mi muovo e comunque ho visto un discreto funghetto essere arrivati fin qui senza prendere nemmeno un fungo mi sembrerebbe eccolo è chiaro che questo mi incentiva molto a tornare fra qualche giorno perché senz'altro sotto tutto questo fogliame ci sarà qualcosa ripeto qui non c'è alcuna concorrenza gli orsi non esistono più gli stambecchi i caprioli qua non ci pensano nemmeno perché guardate qua in che situazione io mi sto trovando per cui io una volta che vengo qui se incoccio nel momento giusto ci riempio il paniere altrimenti come stamane ne ho trovato uno ma è foriero e indicativo quindi a questo punto io interrompo e ritorno con tutte e due le mani come le scimmie e ritorno a nuova vita a ritrovare il cielo stop